Stiamo raggiungendo la zona di lancio, Capitano. Hai fatto qualcosa di divertente sabato sera? Beh, tutti i ragazzi del mio quartetto vocale sono stati uccisi, perciò... No, non direi... Se invitassi Kristen a uscire in base alle statistiche, forse accetterebbe. Infatti non glielo chiedo. Troppo timido o spaventato? Troppo occupato! Indossavo un paracadute? No. Niente paracadute. Sono nello shield per proteggere la gente. Capitano, per costruire un mondo migliore, a volte è necessario distruggere quello vecchio. E questo crea nemici. È pronto a far conoscere la sua vera identità? Guardi là fuori. Conosce il gioco. Disordini, guerra. Il passo è breve. Riusciremo a neutralizzare molte minacce preventivamente. Pensavo che ci fosse la punizione dopo il crimine. Lo shield prende il mondo così com'è, non come vorremmo che fosse. Questa non è libertà, è paura. Dovrai tenere gli occhi bene aperti. Prima di cominciare, qualcuno preferisce scendere. Il suo lavoro è stato un dono per l'umanità. Ha influenzato il secolo. E mi occorre che lei lo faccia di nuovo. Tocca a te. Eura. 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 Grazie a tutti.